Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Sì, in effetti così sembra proprio l'inizio di un film della Marvel, ma non è altro che la realtà quando sei un corallo nel bel mezzo dell'oceano. Lavoratori instancabili, questi animali creano delle città immense sottomarine dando casa a milioni e milioni di esseri viventi. Ma si sa, il cambio di stagione insieme ad un lavoro inestimabile non sono proprio, diciamo, perfetti per la salute, no? Ed è per questo che in un momento storico come questo in cui il cambiamento climatico è protagonista indiscusso che il sistema immunitario del nostro corallo è un pochino più debole ed effettivamente lo rende più vulnerabile ai malanni. E questa è proprio una delle principali cause che hanno portato dal 1950 ad oggi alla perdita di più della metà delle barriere coralline in tutto il mondo. Bene, a questo punto che cosa fare? Abbiamo due opzioni. La prima è quella di continuare a lamentarci di quello che sta succedendo e aspettare passivamente che un supereroe passi di qui e ci aiuti a risolvere la questione. La seconda, invece, è quella di rimboccarci le maniche o in questo caso dovremmo dire allacciare la muta e indossare la maschera e provare a salvare il nostro pianeta. Come nel mondo dell'arte, quando un quadro si rovina, il restauro gli ridona vita. Ecco perché ad oggi il restauro delle barriere coralline è uno dei modi migliori per cercare di salvare questi importantissimi habitat e la loro ricchezza. Bene, si sa, le cose più belle richiedono tempo e cura. Come quando noi andiamo in un vivaio e raccogliamo i fiori più belli, anche noi volontari, biologi marini, ma non solo, anche persone effettivamente come voi, andiamo nelle nostre barriere coralline e raccogliamo piccoli frammenti di coralli che facciamo crescere su queste strutture. Chi l'ha detto dunque che i coralli non possono crescere sugli alberi? Bene, una volta che questi coralli hanno raggiunto la loro maggiore età, sono pronti per spiccare il volo nelle immense acque dei nostri oceani e crescere rigogliosi restaurando le nostre barriere coralline. Sembra una bellissima storia d'amore, con un lieto fine degno di qualsiasi film Disney. E come il buon vecchio Confucio diceva, il primo momento migliore per coltivare un corallo era vent'anni fa, il secondo momento migliore è oggi e tutti insieme possiamo veramente farlo. Ricordatevi che noi apparteniamo alla terra, non è la terra che appartiene a noi. E se è vero che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, è nostro dovere preservare la bellezza che ci circonda.